Importanti precisazioni sul reddito di inclusione e di cittadinanza. Il Comune di Battipaglia, sulla proprietoria con una nota a firma della dirigente, la dott. Anna Pannullo, comunica che con decreto legge del 28 gennaio 2019, numero 4, si è stabilito che a decorrere dal 1 marzo 2019 il reddito di inclusione non può essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto né rinnovato. Per coloro i quali il reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il reddito di cittadinanza. Il reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure di cui l'articolo 9, il decreto legislativo numero 147 del 2017, e non è in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del reddito di cittadinanza da parte di alcun componente il nucleo familiare.